La liquidità del PNRR che dovrebbe arrivare al sud pari al 40% del totale potrebbe risolvere molti problemi soprattutto a Napoli ed in Campania. Sull'argomento la riflessione dell'economista Gianni Lepre. Sanità, infrastrutture, trasporti, sicurezza sono le priorità per Napoli e per la Campania. I fondi dovranno essere reperiti da quelli che in percentuale arriveranno dal PNRR. Questi interventi serviranno per migliorare la qualità della vita ma per altri versi serviranno anche per migliorare l'offerta turistica della nostra regione. Grazie per la visione!